Tutte le volte che maggiormente andavo verso qualche miglioramento della conoscenza mi accorgevo dall'altra parte, per esempio da parte di moltissimi scienziati e mi è capitato anche nell'incontro con i Nobel di essere indicato come un terrorista, come qualcuno che vuole andare contro la scienza e quante volte ho sentito, beh si sa, qualche pericolo c'è, le vittime la scienza le desidera, insomma ci sono, è normale, la scienza vuole le sue vittime, vuole il suo sacrificio. A me è bastato vedere per esempio e osservare il comportamento della Chiesa rispetto a questo problema. Allo che trovo un vescovo cardinale che fa un discorso euforico, stupefacente davanti al progresso che ci aspetta, la facilità per cui la nostra vita sarà più facile ad essere vissuta e quasi eterna. Siamo verso l'andamento della completa possibilità di cambiare i nostri organi, come ci pare, abbellirli, migliorarli, allungarci, chiuderci e via dicendo. E dall'altra parte si tacciono quelli che sono i pericoli.